Ciao da AFSIM! Non ho mai parlato di squadra inallenabile, così Maurizio Sarri in conferenza stampa clamorosamente prima di Lazio-Juventus che si giocherà il sabato 20 novembre domani alle 18. Una partita importantissima per la classifica con la Lazio a tre punti sulla Juve, quindi davanti, ma entrambe le squadre che lottano in questo momento per un piazzamento in Champions League e con la sfida a distanza tra Sarri e Allegri che è già cominciata tramite le conferenze stampa, soprattutto quella di Allegri di cui vi ho già parlato e vi invito a recuperare il video e in generale iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere i prossimi contenuti, un po' meno con la conferenza stampa di Sarri di cui vi parlo in questo spazio, in questo video lasciandomi naturalmente lo spazio dei commenti qui sotto per le vostre riflessioni e le vostre opinioni e vi ringrazio fin da ora per la partecipazione. Perché un po' meno Sarri? Perché Sarri ha subito gettato acqua sul fuoco e ha subito abbassato la temperatura di questo scontro ideologico ipotetico tra i due allenatori dicendo che non c'è nessuno scontro tra allenatori, andranno in campo Lazio e Juventus per giocare Lazio contro Juventus e ha parlato anche della sua esperienza alla Juventus di cui si è parlato pure nella conferenza stampa di Allegri. Diciamo che andando a pesare le due conferenze stampa e l'approccio comunicativo dei due allenatori troviamo molto probabilmente un carico maggiore nella conferenza stampa di Allegri rispetto a quella di Sarri sia per quanto riguarda le curiosità da gossip, sia per quanto riguarda eventuali frecciatine o giudizi intrecciati. Nel senso che Sarri ha guardato a se stesso, ha parlato di se stesso e ha parlato della Lazio. Chiaramente anche della Juventus ma in funzione della partita come avversario. Mentre Allegri ha parlato della Lazio in funzione dell'avversario ma anche oltre che di se stesso, di Sarri come lavora e di come si dovrebbe lavorare facendo l'allenatore. Ho già parlato di una sorta di lezioncina che Allegri ha voluto offrire a Sarri dicendo che le squadre inallenabili non esistono ma semplicemente ci sono squadre che vanno allenate in un certo modo e squadre che vanno allenate in un altro modo e se un modo non funziona bisogna trovarne un altro e non esiste un solo metodo per vincere. Come a dire a Sarri sei troppo dogmatico, sei alla Juve e non ti sei trovato bene. è un problema tuo, è stata colpa tua e non di questa squadra premesso che la squadra in due anni è cambiata tanto. Ma non c'era grande aggressività da parte di Allegri nei confronti di Sarri, non ho detto questo, non sostengo questo. Semplicemente c'è stata un po' un'invasione di campo che Sarri non ha fatto. Probabilmente Sarri non aveva ascoltato, letto le parole di Allegri, gli sono state in parte riportate ma non ci ha badato più di tanto e sul discorso squadra inallenabile ha davvero tirato fuori una interpretazione non voglio dire una verità perché poi non sappiamo esattamente come vanno le cose ma come sono andate appunto le cose possiamo immaginarle ma un'interpretazione, una versione dei fatti veramente clamorosa che nessuno di noi si aspettava perché che Sarri abbia detto la Juve è una squadra inallenabile, me ne vado ma questa squadra è inallenabile ormai lo abbiamo dato per assodato da un anno e mezzo, da quando appunto ad agosto, quasi un anno e mezzo ad agosto 2020 Sarri è stato esonerato dopo l'eliminazione contro il Lione in Champions League per essere poi sostituito da Pirlo che però era già stato annunciato come allenatore della Juventus Under 23 una settimana prima e già sapeva, perché lo sappiamo, perché lo ha ammesso lo stesso Pirlo in una chiacchierata con Cannavaro Pirlo già sapeva che invece sarebbe stato allenatore della prima squadra e Sarri prima della partita contro il Lione, il ritorno del 7 di agosto 2020, disse non sono dei dilettanti dirigenti della Juventus, non valuteranno il futuro sulla base di una partita quindi o hanno già deciso che il resto o hanno già deciso che vado via e lo sapeva Sarri che sarebbe stato cacciato e quindi quella frase squadra inallenabile Sarri dice di non averla mai detta e dice sono quei virgolettati che i giornalisti vanno a prendere dai sentito dire dai si dice ma non esiste una dichiarazione mia in tal senso diciamo una cosa, non è proprio una smentita totale, non siete d'accordo? mi sembra un po' una smentita politichese di opportunità per evitare che si continui a parlare di questa cosa ma senza dire effettivamente come sono andate le cose perché Sarri non dice no, non l'ho detto assolutamente anzi colgo l'occasione per fare una smentita ufficiale e definitiva su questa storia che tra l'altro avrebbe potuto fare già nei mesi scorsi non prima di insediarsi alla Lazio perché vi ricordo che Sarri è stato zitto un anno perché è ancora sotto contratto della Juve e quindi non poteva parlare parlare non sarebbe stato neanche corretto e opportuno ma ha detto invece in questo caso sono virgolettati presi dai sentito dire e non c'è una dichiarazione ufficiale come a dire non avete la prova che io l'abbia detto non essendoci la prova io dico che non l'ho detto ma non siamo così sicuri che non l'abbia veramente detto lasciamo un po' questa incertezza lui dice così poi ognuno può farsi la sua convinzione su che cosa effettivamente sia successo una cosa è vera una cosa è chiara che al di là dell'inallenabile o non inallenabile che l'abbia detto o non l'abbia detto chi abbia ragione Sarri o abbia ragione Allegri sul fatto che non esistano squadre non allenabili un discorso chiaro una certezza è che Sarri non è stato messo alla Juve nelle condizioni di lavorare appieno cosa che invece gli sta succedendo alla Lazio parlo tutti i giorni con Lotito ho un ottimo rapporto con lui sulla questione rinnovo cioè Sarri è appena arrivato già gli fanno il rinnovo per consolidare la sua leadership il suo peso nello spogliatoio la sua importanza e quindi rinsaldare lo spogliatoio stesso attorno all'allenatore dando un messaggio chiaro voi dovete ascoltarlo perché lui è l'allenatore e resterà l'allenatore anzi gli prolunghiamo già il contratto perché crediamo in lui e nel suo progetto ma quello che ha fatto alla Juve resta e Sarri ha detto mi resta lo scudetto di quello scudetto sono soddisfatto perché è stato anche un modo di chiudere un cerchio di una carriera ventennale partita dal basso e passata attraverso tutto il percorso fino al top appunto fino a vincere il campionato italiano e quindi pur con tutte quelle difficoltà Sarri dice io quello scudetto lo sento mio quello scudetto mi dà soddisfazione quello scudetto mi resta al di là della separazione dalla Juventus e quindi è qualche cosa che rimane anche nella storia anche perché c'era una difficoltà specifica particolare era una Juve a fine ciclo veniva da otto campionati vinti consecutivamente e forse era a fine ciclo e infatti ha detto Sarri adesso hanno provato a ringiovanire la rosa stanno ringiovanendo la rosa pur mantenendo un elevato livello di qualità secondo Sarri che dice al di là della classifica secondo me la Juventus ha la rosa più profonda e forse di maggiore qualità di tutto il campionato quindi un riconoscimento di importanza cosa che anche Allegri ha dato alla Lazio dicendo la Lazio è un'ottima squadra e sta iniziando a girare alla maniera di Sarri quindi Sarri sta iniziando ad ottenere qualcosa a raccogliere qualcosa a raccogliere frutto del suo lavoro specifico nella Lazio ma pure Sarri riconosce il valore della Juventus secondo me in maniera sincera non tanto per gettare addosso all'avversario il peso maggiore della responsabilità dell'ansia da prestazione come a dire tocca a te vincere io se perdo non mi succede nulla io Lazio nel caso di Sarri secondo me invece è sincero nel dire che è la squadra con la rosa più profonda di qualità ma appunto era una Juve a fine ciclo queste sono parole che pesano ma sono parole secondo me veritiere lo abbiamo visto l'anno dopo lo scudetto non l'abbiamo vinto siamo arrivati quarti siamo usciti comunque agli ottavi di Champions questa operazione Pirlo non ha funzionato non ha funzionato e adesso abbiamo dovuto riprendere Allegri e siamo ottavi in campionato siamo ottavi ottavi in campionato ottavi in classifica con tre punti appunto in meno della Lazio e una rincorsa che è più sul quarto posto che sullo scudetto parlando appunto di scudetto altre cose importanti e interessanti che ha detto Sarri riguardano il suo modo di lavorare ha detto Luis Alberto è un giocatore fondamentale è un giocatore fortissimo che sta ritrovando il meglio delle sue prestazioni e stiamo lavorando tanto per farlo convivere con Milinkovic e Savic e non è facile ma pian piano ci riusciremo questa vecchia storia è stato contestato Sarri riguardo a questo aspetto molto banalmente qualcuno ha detto ma com'è possibile che Simone Inzaghi sia riuscito per tanti anni a far giocare insieme Luis Alberto e Milinkovic e Savic a Sarri dice che non si può fare o che non si riesce ecco il solito vecchio Sarri che non si adatta che ha dei dogmi e che ha delle fissazioni in realtà il discorso è ben diverso è più complesso un conto era l'approccio tattico un conto erano gli schemi di Simone Inzaghi altra cosa sono quelli di Sarri quindi Sarri non è che sta cercando di far convivere Luis Alberto e Milinkovic e Savic perché i due non si sopportano o sono incompatibili ma perché c'è qualche attrito nell'esecuzione nello svolgimento tattico della squadra della Lazio di Sarri secondo quello che Sarri richiede alla sua squadra che magari è dogmatico ma più banalmente è un contenuto tattico che poi devi andare ad eseguire quindi non è che l'allenatore non deve avere nessuna pretesa nei confronti della squadra deve essere adattivo non deve avere delle pretese assurde non deve essere dogmatico ma qualcosa deve pur chiedere in quel qualcosa che Sarri chiede la convivenza tra Luis Alberto e Milinkovic e Savic non è automatica secondo Sarri però ci sta lavorando questa è la cosa che mi colpisce in positivo ci stiamo lavorando ha detto questo fa l'allenatore lavora per migliorare la convivenza dei giocatori in campo e di conseguenza il potenziale rendimento degli stessi un lavoro fatto sul campo fatto naturalmente in allenamento per un perfezionamento per un miglioramento altre cose importanti ecco la Juve è una squadra forte bisogna cercare di lasciare il meno possibile alla Juventus la gestione della palla e poi dobbiamo giocare alla nostra maniera lasciare alla Juve il meno possibile la gestione della palla è una dichiarazione che ormai mi sarei aspettato da parte di Sarri nei confronti della Juve di Allegri perché se c'è proprio un modo per mettere nella situazione di vantaggio la Juventus è toglierle il pallone la Juventus in questo momento va in difficoltà se il pallone lo deve gestire non se lo deve gestire l'avversario perché abbiamo visto contro il Chelsea ma anche in altre partite una Juve remissiva rinunciataria difesa posizionale poco possesso che poi alla fine vince che riesce a non prendere gol che riesce a vincere e abbiamo visto invece partite dove si doveva giocare un po' di più in cui la Juve era magari in difficoltà quindi vediamo se Sarri ha capito bene lo scopriremo domani cosa si deve fare per non perdere contro la Juve o per battere addirittura la Juventus vedremo in base a come andrà il risultato ma direi soprattutto in base a come andrà la prestazione e dice non faremo la partita della Juve sulla Juve qui è anche una tematica importante Allegri scrisse nel suo libro del 2019 uscito nel 2019 in campo devi fare il contrario di quello che fa il tuo avversario poi però ad Allegri abbiamo sentito dire tante volte che bisogna anche adeguarsi all'avversario che bisogna giocare in base all'avversario sull'avversario per andare a cogliere i suoi difetti i suoi limiti e quindi tutte le opportunità che vengono fuori nel corso della partita qui Sarri va in posizione diametralmente opposta dobbiamo anzi quasi scientificamente fare l'opposto dell'avversario e cioè la Juve è una squadra fisica noi non abbiamo bisogno di fisicità abbiamo bisogno di fare il nostro calcio anzi proprio perché loro sono fisici ci verrà meglio fare il nostro calcio e io devo dire che mi incuriosisce questo aspetto non so da che parte stare però credo che Sarri non dica una cosa del tutto sbagliata quando dice appunto dobbiamo fare la nostra partita anche se l'avversario si pone su frequenze completamente diverse anzi a maggior ragione perché magari la Lazio soffrirà la cifra fisica della Juve ma magari la Juve fisica soffrirà la cifra tecnica della Lazio e allora vediamo poi chi prevarrà e chi vincerà e ancora Immobile è quasi recuperato ma dipende dal giocatore e dallo staff medico perché comunque non sta benissimo ci sono anche altri assenti potrebbe giocare Pedro punta centrale ruolo che ha già ricoperto in passato e quindi non sarebbe una situazione diciamo di particolare emergenza e poi ancora bisogna cercare la continuità dei risultati dice anche la Juve tra l'altro è un progetto nuovo ed è una squadra in qualche modo in crescita come anche noi come anche la Lazio dice Sarri ma bisognerà per quanto riguarda la Lazio trovare la continuità di risultati su un orizzonte di 15 partite nell'arco di tre mesi a quel punto potremo porci degli obiettivi più o meno quello che ha detto Allegri qualche settimana fa dicendo poi a novembre facciamo il bilancio alla sosta per vedere dove siamo e in base a quello parleremo degli obiettivi si è Allegri completamente sottratto poi al riscontro di questa cosa gli è stato chiesto ma lui non ha risposto e non gli è stato più ripresentato questo quesito e non ha nuovamente dato un risponso su questo quindi adesso mentre Sarri si è dato diciamo un obiettivo e vedremo se rispetterà questa scadenza Allegri la scadenza l'ha saltata non l'ha rispettata e adesso come Juventini saremo intenzionati a capire quali sono gli obiettivi di questa stagione in base alla situazione che vediamo adesso e ancora la solidificazione dello Scudetto il rapporto con lo Tito brevemente infine soltanto che Sarri e questa non è una novità si è lamentato del calendario e si è lamentato anche del problema sosta lo diceva anche alla Juve due anni fa ogni volta che c'era una sosta quando i giocatori tornano dalle nazionali è difficile perché vanno in posti diversi dove si allenano in maniera diversa fanno un'alimentazione diversa hanno ritmi diversi e devono ritornare a fare tutti la stessa cosa in un contesto che avevano lasciato che anche mentalmente dà problemi però è una cosa che è sempre successa e tutti fanno fronte quindi non può essere un alibi e non può essere un fattore condizionante così come non deve esserlo il calendario la Lazio gioca in casa domani contro la Juve poi giovedì deve andare in trasferta mi pare in Russia e poi domenica deve giocare a Napoli per una partita dal sapore molto importante per Sarri e molto 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 difficile a livello di campionati di classifica ma è questo il calcio è questo il calendario è questo e quindi le lamentele di Sarri sul calendario sono proverbiali le conosciamo ma in questo caso potrebbe anche aver ragione vista la difficoltà degli impegni ma è qualcosa a cui lui come allenatore deve far fronte ed è il suo lavoro grazie per la vostra attenzione amici laziali o soltanto Juventini o anche di altre squadre fatemelo magari sapere nei commenti se vi vai ditemi la vostra e iscrivetevi al canale attivando le notifiche per non perdere i prossimi contenuti sulla Juventus soprattutto ma di tanto in tanto anche sulla Lazio e su Sarri mettete anche cliccate sul tasto per abbonarvi quindi abbonatevi al canale qui sotto per tanti vantaggi tra cui dibattito extra tutti i giorni a tutte le ore sulle chat riservate nel mio server Discord ci vediamo molto presto e sempre forza Juve